salve ragazzi bentornati nel mio canale benvenuti a tutti i nuovi iscritti ragazzi oggi vi faccio vedere la mia routine che ho fatto dopo pranzo oggi come ho fatto vedere nel video ho cercato di mangiare un po sano riso basmati e un'insalatina con pomodoro e cipolla di tropea e una frittatina fatta a forno si a forno con questo caldo ma io purtroppo non amo friggere perché soffro di castrite perciò preferisco stare un pochino a caldo e 5 minuti la frittata è pronta comunque ragazzi in questi giorni faremo il video completo di pulizia e scusate ma il caldo mi ha tolto tante energie e niente da domani cominceremo ad essere operativi sperando che non fa tanto caldo ma penso che farà caldo e faremo una routine di pulizia completa della mia casa comunque io vi lascio il video spero che questo video vi faccia un pochino compagnia e vi faccia da motivazione e magari vi rilassate un pochino sotto il condizionatore col mio video un bacione grossissimo ah dimenticavo se vi piace il video mettete like e magari iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video ciao ciao un bacione grossissimo ciao 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 ciao